Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Vedrete per 365 volte la mia faccia di minchia in diverse condizioni Da nudo vestito in qualsiasi condizione Spero che questo video vi piaccia Era una cosa che volevo fare da diverso tempo Finalmente ho fatto, sono una palla a fare una foto ogni giorno per un anno È stato davvero molto faticoso Anche se dici ma devi fare una foto Sì ma l'idea di anzarsi e fare una foto era bellosissima Quindi iscrivetevi, lasciate like Non fate caso alla mia faccia di minchia in diverse condizioni Perché alla fine tutta è una faccia di minchia quando siamo per i fatti nostri Quindi bella per voi, bella per me E niente, vi lascio al video, bella E niente, vi lascio al video, bella per me E niente, vi lascio al video, bella per me E niente, vi lascio al video, bella per me E niente, vi lascio al video, bella per me